Uomini e donne gossip? Luigi Mastroianni se la prende con Irene e il pubblico inizia ad avere qualche dubbio, pensa ancora a quanto accaduto con Sara Affi Fela Un gesto di Luigi Mastroianni verso Irene a Uomini e donne fa consiglio. Il pubblico è convinto che quanto accaduto con Sara Affi Fela stia ancora tormentando il tronesto, sui social hanno ancora notato tutti che Luigi sia terrorizzati dal fatto che qualcuno possa ingroliarlo ancora a noi. Ricordiamo che Sara, pur di continuare a lavorare su Instagram Aveva deciso di salire sul trono continuando la sua relazione con Nicola Pia, dopo di che, ha scelto di uscire dal programma con lui. Il Mastroianni aveva creduto alla loro storia e, dunque, ora sembra proprio abbia paura di trovare un'altra donna con le stesse intenzioni di Sara Sin dall'inizio, il Mastroianni ha dimostrato di essere una persona molto attenta a qualsiasi dettaglio dopo quanto accaduto con la Affi Fela. Un gesto nei confronti di Irene ora fa pensare molto. Luigi non riesce ancora ad andare avanti? Secondo il film, il filmista sarebbe troppo risposto. Il Mastroianni rivela di aver buttato in particolare sulla account Instagram di Irene. Quest'ultima, dopo la scorsa puntata, ha cancellato alcuni follower e diverse foto precedentemente, però, la corteggiatrice aveva dichiarato di non essere molto interessata ai social e di essere anche disposta a cancellare il suo profilo. Secondo il Mastroianni, se davvero Irene non importasse dei social non avrebbe fatto delle modifiche sul suo account Instagram, da cui si apre un'accesa discussione in studio tra Luigi e la corteggiatrice. Ma a detta del pubblico, il trunista sarebbe troppo esagerato, quando accaduto con Sara ancora lo torrente e non riesce a fidarsi di nessuna donna. Infatti, i telespettatori sono sicuri del fatto che Irene abbia un normale profilo Instagram e che non ci sia nulla di male nel fatto che lei cancelle post o follower, bossi uomini e donne, Luigi Nastroianni insieme a Irene. Con Antonella, con Antonella un po' meno, Luigi pensa ancora a quanto accaduto con Sara? Il pubblico ne è convinto e secondo molti telespettatori starebbe rovinando il suo percorso nel programma a causa di questo problema, Irene, nel frattempo, sembra essere entrato nel cuore del pubblico di Canale 5. Al contrario di Antonella, quest'ultima non piace molto ai telespettatori, i quali la trovano per sé. .